Ben ritrovati amici bianconieri, un saluto dal vostro BJ. Ce l'hanno fatta, ci sono riusciti. La Juventus ha ufficialmente abbandonato la Super Lega. Signori miei, un mese fa la Juventus iniziava a parlare con Real Madrid e Barcellona a discutere di un'ipotetica uscita. Bene, ufficialmente la Juventus ormai l'ha comunicato che la Super Lega non farà più parte del progetto Juventus. Andremo ad approfondire bene quello che è successo, perché la Juventus ha abbandonato la Super Lega. E onestamente io non me l'aspettavo, sono rammaricato, lo ammetto. Iscrivetevi al canale perché io sono sempre qui a difendere la Juventus da tutte le ingiustizie. Giustizie, lasciate un like, pollice in su a questo video, attivate la campanellina, così non vi perderete mai un video e siamo sempre live. Lei si dimentica in mente, madame e me, se signore e signori, i miei signori, quelli veri, quelli gobbi bianconieri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Io ho parlato, ce l'hanno fatta, ci sono riusciti perché? Perché la Juventus si ha abbandonato ufficialmente la Super Lega, è perché è stata costretta. Costretta, non voglio dire minacciata, non lo voglio dire, la lascia a voi. Lascia a voi dire quello che volete, se è stata minacciata o meno. Io dico che è stata costretta. Lo sappiamo tutti. Sono arrivate le varie proposte, ti facciamo fuori dalle coppie per 4-5 anni. In Serie A sono arrivati i primi 10 punti di penalizzazione che non capiamo quali reati abbiamo fatto. Ci hanno penalizzati. Non giochiamo la Champions League della prossima stagione. Addirittura il presidente UEFA ci dice che ci vuole escludere per più di 1, 2, 3, 4 anni. Guarda caso, dopo che il presidente dell'UEFA, Ceferi, dice che c'è la possibilità che la Juve venga esclusa per più di un anno dalle competizioni europee, guarda caso, siamo nella settimana della decisione, della sentenza sulla Juventus, se partecipare o meno alla prossima competizione europea che sarà la Conference League o anche essere squalificata per più di un anno dalle competizioni europee. Così è un caso, cala dal cielo, che proprio in questa settimana che Ceferi deve decidere il futuro europeo della Juve, la Juve ufficialmente, perché non stiamo parlando che ufficialmente, lo dico io, la Juventus nel suo sito ha fatto una nota dove dice che la Juventus ormai ha iniziato la procedura per uscire fuori, da non compondere quello che ho detto un mese fa, la Juve un mese fa iniziava a parlare con Barcellona e Real Madrid per uscire dalla Superlega. Oggi invece inizia ufficiale la procedura dall'uscita. Cioè vuol dire che la Juventus ora guarderà se ci saranno penali da pagare, perché la Juve, attenzione, ha firmato un contratto con la Superlega, ci saranno anche forse delle penali, la Juventus deve anche vedere quello che diranno Real Madrid e Barcellona, nel senso che la Juve è data lì un mese fa a parlare, guarda, ho l'idea di uscire fuori, loro cosa hanno detto? Noi dobbiamo riflettere. La Juve dopo un mese riflette la Juve e gli dice direttamente, io ufficialmente esco fuori, inizio la procedura, ora ci deve essere il consenso di Real e Barcellona a dire, bene, vattene fuori dal progetto, non paghi nessuna penale, capiamo che la Juventus purtroppo è stata costretta, è stata messa, come dire, all'angolo. È come un incontro di pugile con una differenza. I pugili sono 10 contro la Juventus, che è sola, messa all'angolo, a beccare pugni da tutti, dalla FIGC, dall'UEFA e anche dalla FIFA. Ma io però voglio essere onesto, io ho un filino di fiducia, qual è il filino di fiducia? Voglio pensare che tutte queste decisioni portano a qualcosa di buono. E se non portano a niente di buono mi viene da dire, ma ascoltate a me, ma nuova società della Juve, ma cosa state combinando? Che poi nuova società, sempre Elkan al comando, la dirigenza, cosa avete in mente? Ma che progetto c'è per uscire fuori dalla Superlega, a codarci all'UEFA, a farci squalificare quasi ogni anno al loro piacimento? Io non lo so. Che signori miei, cosa vi devo dire? Io ero il primo che voleva la Superlega, ero il primo che voleva abbattere questo monopolio, perché mi sono trovato anche costretto a ragionare così, dopo che mi vedo togliere 10 punti ingiustamente, dopo che oggi non gioco la Champions e dove sono arrivato terza in classifica. La dico tutta la vita la Superlega. Invece la Juve spiazza tutti. La Juve spiazza tutti, un mese fa deve riflettere, un mese dopo, nella settimana, ripeto, nella settimana, dove Cefere dovrà decidere il futuro europeo della Juve, nei prossimi anni, la Juve esce ufficialmente dalla così famigerata Superlega. Ora cosa mi aspetto da Cefere? Mi aspetto che lui dice, la Juve è uscita dalla Superlega, bene, il problema è risolto, ora vatti a giocare la Champions League. Perché è questo quello che mi aspetto ora. Perché se il prezzo da pagare era uscire fuori dalla Superlega, ma allora fatemi giocare la Champions League, perché io sono arrivato terzo in classifica. Io indento la Juventus. Io sono oggi rammaricato, signori miei. Sono rammaricato. Io sono uno che difende la Juve, lo farò sempre. Però ci sono momenti come questi che mi trovo a essere un po' in difficoltà. Non me l'aspettavo. Però, come ripeto, quel filino di fiducia mi fa pensare la Juve ha in mente un progetto migliore. La Juve è stata costretta, non poteva fare anni senza giocare la Champions, perché porta soldi. Ricordiamoci che c'è il Mondiale per club che porterà soldi. La Superlega, forse la Juve si è resa conto che era un progetto forse campato in aria, che ci ha illuso tutti. Io voglio che anche voi avete quel filo di fiducia che ho io sulla scelta societaria della Juventus. Se no, altrimenti, ragazzi miei, c'è veramente da uscire pazzi. Ma non vi preoccupate, perché noi, qualunque cosa succede, dobbiamo sempre sostenere la nostra squadra, i nostri ragazzi, perché noi siamo la gente della Juventus. Fino alla fine, forza Juventus, gli mi ne vaio, ossa benedica a tutti picciotti, ciao!